Ciao ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video, io sono Amber di Tragosteak ed eccoci in un altro episodio, intanto c'è la notifica di Planned Pirates Sono ragazzi di nuovo su Clash Royale, il nuovo gioco della Supercell e come vi ho detto nel scorso video ragazzi vi ho promesso che avrei fatto nel prossimo gameplay di Clash Royale avrei cominciato direttamente subito con 1 o 2 attacchi Direi di andare subito a farci un attacco immediatamente e vi ricordo subitissimo che dal prossimo episodio vi porterò dei tutorial sul gioco Quindi ragazzi pollicione in su, vediamo se siete interessati a dei tutorial riguardo al gioco Quindi ragazzi like qui sotto e cominciamo subito con il video Siamo a 1000 trofei, finalmente siamo a questi dannati 1000 trofei di nuovo E oggi quindi andremo ad attaccare sperando di riuscire a mantenere questi 1000 trofei, spero di non perdere in questa partita live E dopodiché magari ci andiamo a vedere qualche replay di qualche attacco di player top nella TV Royale Andiamo dunque subito su attacche e cominciamo a cercarci un nemico da asfaltare Intanto siamo ragazzi nell'arena Pekka's Playhouse Ed eccoci qui, siamo contro Andrea Warrior degli Enrage Empire Lui c'ha 1087 trofei, quindi stessi trofei circa Allora vediamo un po' che cosa combina Allora lui manda il suo draghetto, io devo mandarci subito la strega e la mia capanna dei goblin Meno male la strega comincia ad attaccare il drago perchè il drago è troppo forte E quindi lo facciamo fuori immediatamente, la strega si comporta benissimo, meno male Perfetto, allora Idril possiamo mandarci anche un barile di goblin Tanto adesso la strega... Oh che pacco, lui c'ha il gelo, c'ha l'incantesimo in questo, non vale Io ancora non ho nessun incantesimo Fatemi sapere ragazzi se voi invece ce l'avete Sono curioso di saperlo Ok ragazzi, si procede l'attacco La mia torre è a 1046 di vita Quindi sono un po' in svantaggio in questo preciso momento Ma facciamo così, mandiamo un gigante Vedo che lui sta aspettando di caricare l'isir Quindi non attacco immediatamente Cioè non utilizzo troppe truppe Quindi aspettiamo un attimino Attenzione la mogolfiera mi preoccupa sempre Quindi ci mando subito la mia strega e i miei goblin Sperando che non resta di arrivare alla torre Anche se la bomba, dopo che era stata uccisa la mogolfiera Mi ha comunque colpito Mi tocca mettere la torre Altrimenti quel drago va verso la torre Quindi distrazione assicurata Ci mando un'altra cappanna dei goblin Aspetto un attimino di caricare l'isir Altrimenti potrei rischiare veramente di perdere E non uscire a mantenere i miei mille trofei Aspettiamo un attimino quindi Vediamo i nostri piccoli goblin Dalla nostra cappanna del goblin uscire Che comunque a livello 4 l'ho portato giusto ieri Siamo a doppia produzione di elisir Lui ancora manda questo dannatissimo drago Mi tocca mandare il gigante E anche subito la strega Altrimenti se si avvicina la mogolfiera La mogolfiera si suona veramente casino Ovviamente utilizza quel dannato Quel dannato incantesimo gelo E mi ferma praticamente tutto quanto Ok mi sto cominciando a preoccupare Mi tocca mandare anche qui il barile Attenzione il gigante si è da l'ultimo colpo Forse i miei goblin No utilizza anche lui Purtroppo Utilizza il coso lì Utilizza le frecce Mi fa fuori tutto Quindi mi tocca Aspettare un attimino Vediamo se riesco a fare qualcosa Ragazzi mi sto cominciando a preoccupare 14 secondi Quindi mi sa che ragazzi non ce la faccio Però se butto il barile di goblin Forse qualcosa riesco a fare Vediamo Ecco Perfetto Perfetto ragazzi L'ho fatto fuori la torre Però lui è già vicino alla mia di torre Quindi è un problema Vediamo cosa riesco a fare Mandiamoci tutte le truppe ragazzi Vediamo 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 Mandiamoci anche gli scheletrini qua Vediamo se riesco a raggiungere Quella dannatissima torre Ok Mandiamoci qui la La torre bombarolo Così riusciamo a distrarle un pochino Mandiamoci la strega qui al centro Perfetto E mandiamo subito il principe da questa parte Sperando che riesca a raggiungere la torre Senza problemi Lui spreca l'isir Vediamo ragazzi se riesco a vincere Oh Oh Ops Ho vinto ragazzi Siamo più 36 trofei Attenzione non ho mai preso più di 30 31 trofei E siamo ragazzi più 36 trofei E vinciamo Bella Siamo a 1042 trofei Perfetto E siamo quasi anche a 10 corone Quindi così potremo sbloccare immediatamente Una cassa d'oro Meno male siamo riusciti a mantenere i 1000 trofei E direi di continuare il video Guardandoci invece un replay nella tv royale Questo qui ragazzi direi è questo qua Cioco contro WTF Momoda Vedo che ci sono dei domatori e sono curioso di vedere che cosa fanno Vediamo dunque questo replay Vediamo un po' che cosa fanno Siamo nell'arena 6 E sono uno a livello 10 e l'altro a livello 9 Allora vediamo un pochino Entrambi piangono già subito dall'inizio Allora vediamo un pochino Momoda manda degli arcieri E la stessa cosa fa anche Cioco Anche se WTF Momoda ci dia a livello 10 Attenzione Cioco prepara i domatori Infatti i domatori a livello 7 Li manda subito dalla prima torre Che però ferma con degli scheletrini a livello 10 Mentre dall'altra parte Momoda attacca con dei barbarelli Che comunque stanno insieme agli arcieri Che però sono appena stati fatti fuori Da una meteorite Dalla palla di fuoco Manda anche Momoda il suo domatore Anche lui a livello 7 E fa fuori ragazzi la sua torre Facilmente in pochissimi secondi In circa 15 secondi L'ha già fatto fuori una torre E vediamo che sta già attaccando Praticamente senza essere interrotto La torre principale del re di Cioco Vediamo un po' che la lapide comincia A spawnare i suoi scheletrini Il livello 10 Che non sono niente male in attacco Anche se ovviamente in difesa Non sono sto gran che Vi ricordo che comunque ci sarà Un aggiornamento a febbraio Che cambierà un bel po' di cose Riguardo alle truppe Lui manda i suoi 4 barbare Mentre Momoda risponde con goblin Attenzione un branco di sgherri Che questi però dovrebbero essere Un problema questa volta Per Momoda Vediamo un pochino Addirittura un agelo Contro il suo stregone Così da permettergli Se non sbaglio Di riuscire a far fuori Quella torre Di Momoda Secondo me lo fa fuori Sì Sì No Non ce la fa Cioco riesce a fargli fuori La sua torre Attenzione però Con l'incantesimo fulmine Gli la fa fuori La trattiamo ancora Ma comunque pochi punti vita Il domatore 4 barbarelli di Momoda Comunque attaccano La seconda torre nemica Di Cioco E già ragazzi Direi che l'ha fatto fuori Praticamente Anche la sua seconda torre Vediamo se utilizza anche L'incantesimo fulmine Oppure no Entrambe quasi full E lesire Vediamo che cosa succede In questo istante Sono entrambi pari Praticamente Vediamo un pochino Ancora 45 secondi Cioco manda un domatore Ma non ce la fa E ferma le truppe di Momoda Con un incantesimo Gero Lo strigone intanto Ha fatto fuori Qualche sua truppa Lo strigone di Cioco 239 di vita Ragazzi Attenzione Non riesce a raggiungere Lo scheletro La torre Ma il domatore Ce la fa Praticamente Senza alcun problema Portandosi così La vittoria Distruggendo anche La seconda Torre arciere Dico la vittoria Perché ragazzi Ormai È vinta Perché se nel caso Cioco adesso Attaccasse Quella torre Di Momoda Comunque C'ha tutte le sue Truppe Ed entrerebbe Completamente In difensiva Facendoli perdere tempo E dunque Giungendo Alla vittoria Infatti qua Mancano due secondi E finisce La partita Con la vittoria Di What the fuck Momoda Gli H2O Perfetto Domatore ragazzi Sembra essere Una buona truppa Visto che vanno Direttamente verso Vanno verso direttamente La torre arciere Quindi Potrebbe essere una buona truppa Ancora non l'ho provata Sinceramente Non l'ho ancora sbloccata Chiaramente Però ragazzi Ora che ho raggiunto 1000 trofei Sperando di riuscire a mantenerli Dovrei sbloccare Dopodiché L'arena numero 4 Dove potrei appunto Sbloccarli Vediamo se raggiungo ragazzi 1100 trofei Nel prossimo episodio E dunque vi saluto E ci vediamo molto presto Con un nuovo episodio Di Clash Royale Mi raccomando Un pollice nel su E ci vediamo comunque ragazzi Con un prossimo gameplay Ma anche tutorial Riguardo a Clash Royale Ma anche Clash of Clans Non vi preoccupate Ciao ragazzi